Buongiorno, buongiorno, ma sono quello di ieri però, non è che sono anche quello di domani. Chi viene qua? Chi va? Chi viene qua? Dai ragazzi. Grazie, grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a presentare due leggi che diverranno realtà. La prima a brevissimo e la seconda a breve che risparmieranno sofferenze a migliaia di donne che oggi purtroppo sono in balia di delinquenti e di leggi inefficaci. E quindi non entro nel merito di come altri festeggiano l'8 marzo. Ritengo per me motivo di orgoglio e per la Lega presentare qualcosa che sarà utile in concreto non solo l'8 marzo ma il 9 marzo, il 10 marzo, a Ferragosto, a Natale e a Capodanno. Per evitare morti e sofferenze e violenze ormai inaccettabili. Quindi premessa d'obbligo è una conferenza stampa e quindi ci sarà l'illustrazione delle cose fatte. Ci saranno, se ritieni in Elisabetta, alcune testimonianze perché qua c'è la vita vera da cui noi partiamo per il nostro modo di far politica. Premetto ai colleghi giornalisti che dal mio punto di vista è talmente importante l'argomento di oggi, le leggi che proponiamo e anche le ultime morti nelle ultime ore di due ragazze innocenti che non sono qua a festeggiare niente. Purtroppo oggi che non risponderò a nessuna domanda che non riguardi le proposte di legge in questione è la giornata dell'8 marzo. C'è tempo, il venerdì è lungo, quindi ci sentiamo stanotte per chi vuole avere la mia sensazione sulla sensibilità del Presidente del Consiglio, sulla TAP, sul terzo valico, sulla TAP, sul metano, sull'eolico e su tutto quello che può interessarvi. Ci tengo che sui giornali, sulle radio e sulle televisioni alle donne italiane domani arrivi un messaggio di quello che stiamo facendo, non di quello che forse faremo in futuro. Quindi evitate di farmi domande su quello su cui non vi risponderò perché ritengo che l'argomento di cui stiamo parlando meriti assoluta e totale attenzione. Io darei la parola alla Giulia perché uno dei due temi parte da una sua associazione, da un'iniziativa sua e di Michel Unziker e finalmente forse ci stiamo, codice rosso. Nicola Molteni, il Parlamento ci ha provato più volte e non ci è mai riuscito, però l'eliminazione del rito abbreviato e dello sconto di pena per stupratori e assassini è un altro passo in avanti verso la civiltà. Poi Elisabetta che rappresenta un'associazione di vittime, familiari di vittime, di violenze di ogni genere per dare un senso e un contenuto reale di vita vera con alcune testimonianze di alcune persone qua presenti a quello che non vorremmo succedesse più. Quindi Giulia sul codice rosso cos'è in 30 secondi per chi non lo sa e a che punto siamo? La stessa domanda poi a Nicola sul rito abbreviato, perché e a che punto siamo? Sì, allora devo dire che è una proposta proprio che nasce dalla vita vissuta, in particolare con Michel sapete che abbiamo una fondazione che si chiama Doppia Difesa e avevamo per anni spinto le donne a denunziare, dopo un po' le donne ci hanno detto voi ci dite di denunziare, però a volte noi denunziamo e la nostra denunzia resta sepolta sotto altre denunzie e quindi va a finire che addirittura il nostro aggressore si incattivisce e la denunzia può diventare addirittura un boomerang. Allora io credo che sia un tradimento dello Stato dire alla donna fidati di me e poi non aiutare subito la donna, da qui c'era questa idea. Devo dire che è un'idea che io non voglio che abbia colore politico ma è giusto dire che in realtà noi abbiamo conosciuto Salvini proprio in occasione della nostra idea di codice rosso, che addirittura poi è stato quello che ha cuscito i rapporti anche con altri leader politici, tant'è vero che è una proposta che poi è stata firmata un po' da tutti i leader. Non la voglio chiamare, è un disegno legge, si chiama Buona Fede Buongiorno io voglio levare cognomi, è una legge codice rosso per le donne così come quando c'è un pronto soccorso pieno di urgenze si deve saper scegliere l'urgenza io credo che se una donna sta per morire la sua richiesta di aiuto non possa rimanere sepolta su una scrivania in questo modo ci sarà la possibilità per il PM di sentire la donna entro tre giorni se si tratta di una denunzia, esistono, di una donna isterica quella denunzia viene messa da parte se si tratta di una denunzia di una donna che ha poche ore davanti salviamo una vita si tratta di una legge che è stata adesso chiusa in commissione giustizia e che credo a fine marzo, il 25 marzo dovrebbe andare all'aula del Parlamento vorrei che non avesse colore politico vorrei che fosse per tutte le donne l'altra legge che è quella sull'inapplicabilità del reto abbreviato per i reati puniti con la pena dell'ergastolo quindi per i reati più efferati e più gravi è un'iniziativa storica della Lega era già partita quando Giulia era presidente della commissione giustizia nel 2008 che abbiamo poi riproposto nella passata legislatura quindi sono passati ormai dieci anni per due volte quella legge è stata approvata alla Camera e per due volte non è stata poi convertita dal Senato in modo particolare l'ultima volta proprio sul finire della legislatura l'abbiamo riproposta in tempi sostanzialmente record è stata già approvata alla Camera è passata in commissione giustizia al Senato proprio questa settimana e tra la fine di marzo e inizio di aprile verrà calendarizzata al Senato siamo partiti da dove? siamo partiti dalle storie, dalle esperienze mi fa piacere vedere qua con noi tanti familiari vittime di reati gravi, gravissimi, di femminicidi proprio perché la legge attuale consente nei confronti di chi commette reati di gravissimo allarme sociale reati efferati, reati commessi con una condolta incredibile e pazzesca di poter accedere a un rito al rito abbreviato e per il fatto di accedere a questo rito quindi per il fatto di fare una scelta semplicemente una scelta processuale di poter avere uno sconto secco automatico di un terzo sconto secco automatico di un terzo che può arrivare fino a dieci anni quindi una vergogna, un'infamia che non possiamo accettare ed è il motivo per cui questa è dal nostro punto di vista una legge di civiltà, una legge di giustizia e una legge di dignità nei confronti delle vittime nei confronti dei familiari di queste vittime vedo alcune persone, noi abbiamo fatto con Matteo e con Elisabetto un anno fa un incontro, una conferenza dove sembrava che fossimo vicini all'approvazione poi come ho detto prima il Senato non la approvò vergognosamente è una legge che afferma tre principi il primo è il principio della certezza della pena chi sbaglia paga e la pena la paghi interamente il secondo principio è rimettere al centro le vittime e i familiari delle vittime di reati efferati e gravissimi quindi dare dignità a queste persone che hanno subito una vergogna e un'ingiustizia per evitare che paghino due volte non solo per il reato commesso ma anche per il fatto di vedere dopo pochi anni colui il quale ha commesso questi tipi di reati immediatamente liberi e il terzo principio è l'assoluta contrarietà da parte nostra a sconti di pena, a benefici e a misure premiali nei confronti di chi si è macchiato di un'infamia di una crudeltà di questo tipo io mi auguro che ci sia il buon senso alla Camera c'è stato il buon senso da parte delle forze politiche di approvare quantomeno di non mettersi di attraverso rispetto ripeto a questa legge assolutamente giusta e ineccepibile e io credo che entro la fine di marzo dopo l'approvazione della legittima difesa i primi di aprile questa legge ripeto di dignità e di giustizia dovrà necessariamente diventare legge Buongiorno a tutti, io sono Elisabetta Aldrovandi Presidente dell'Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime ringrazio il Ministro Salvini per questo invito che mi onora moltissimo noi siamo un'associazione che accoglie al suo interno decine di vittime di reati violenti che non hanno avuto giustizia nelle aule di tribunale che cercano attraverso di noi di modificare quelle leggi che non funzionano, che non tutelano abbastanza adeguatamente le vittime infatti per questo noi proponiamo, presentiamo scriviamo disegni di legge e siamo auditi in Commissione Giustizia alla Camera e al Senato sulle riforme più importanti io personalmente sono stata sentita in Commissione Giustizia alla Camera sia sulla riforma del rito abbreviato che appoggiamo integralmente perché riteniamo che sia inaccettabile che chi commette reati efferatissimi gravissimi, puniti con l'ergastolo possa per il solo fatto di accedere a un determinato rito ottenere uno sconto di pena di un terzo indipendentemente dalla meritevolezza dell'esercimento del danno piuttosto che da altri comportamenti successivi al fatto di reato commesso appoggiamo integralmente, interalmente pienamente anche la proposta di introduzione del Codice Rosso del Ministro Buongiorno perché riteniamo che sia indispensabile per una vittima di violenza poter essere ascoltata dal Pubblico Ministero nelle 72 ore successive alla denuncia perché molto spesso reati in ambito familiare come i maltrattamenti, la violenza piuttosto che lo stalking vengono sottovalutati e rappresentano l'anticamera di delitti molto più gravi e irreparabili come l'omicidio per esempio in Commissione Giustizia alla Camera abbiamo proposto una modifica alla norma che disciplina lo stalking chiedendo che la sospensione della pena sia sempre subordinata al fatto che lo stalker intraprenda un percorso psicoterapeutico di recupero perché uno stalker non può essere paragonato a un truffatore, è evidente che è una persona che va recuperata quindi la pena per lo stalking non può mai essere sospesa abbiamo qui diverse storie vi posso citare qualcuna il caso per esempio di una donna che ha subito uno stupro un rapimento per ore accoltellamenti da parte di uno straniero di una persona che ha abusato di lei per ore in maniera ignobile ebbene questa persona è stata condannata in appello con rito abbreviato a sette anni di carcere il che significa poco più di quattro anni se voi tenete conto che in Italia per ogni anno di pena ci sono tre mesi di sconto quasi in automatico abbiamo familiari di persone che sono state uccise i cui carnefici hanno avuto accesso al rito abbreviato con sconti di pena ignobili inaccettabili quindi il nostro motto è essere dalla parte delle vittime sempre e io devo ringraziare assolutamente il governo e principalmente la Lega perché vediamo effettivamente che finalmente anche Abele riesce ad avere la sua voce grazie sono io che ringrazio voi quindi ritengo il modo migliore di onorare non solo il passato di chi non c'è più ma il futuro di chi ci auguriamo rimanga a lungo in questo 8 marzo con questo triplice passo in avanti verso la giustizia verso il rispetto delle donne ovviamente ma degli uomini e di chiunque legittima difesa codice rosso e certezza della pena sicuramente accompagnate a un mazzo di rose rosse sono qualcosa che dura di più nel tempo rispetto alle 24 ore e se i tempi sono quelli che ho sentito legittima difesa codice rosso e certezza della pena entro la primavera saranno realtà quindi Elisabetta le prossime conferenze stampa le faremo su altre iniziative che voi ci porterete però mi auguro che dopo anni e anni dieci anni quindici anni di chiacchiere entro meno di un anno dalla vita di questo nuovo governo siano realtà tutti e tre questi passaggi di civiltà sono passaggi di di civiltà di dignità di decoro e di rispetto se ci sono domande su questo rispondiamo ciascuno per la sua competenza molto volentieri A proposito di donne e di 8 marzo volevo sapere come risponde a un movimento abbastanza trasversale di donne che chiede il ritiro del DDL Pillon che è firmato appunto da un senatore della Lega e anche se non ritiene diciamo in contrasto col suo interesse verso il mondo femminile attraverso questa iniziativa di oggi il fatto che a volte è capitato che lei con l'uso dei social esponesse donne che la criticavano alle critiche dei suoi follower i cosiddetti haters questo volevo sapere la risposta è molto semplice se uno va in mezzo a una piazza con un cartello a farsi fotografare insultandomi evidentemente non me lo vado a cercare io può essere uomo donna biondo bianco nero giallo rosso verde giovane anziano se vai in piazza con un cartello dando del cretino al ministro dell'interno fai una scelta e quindi io mando bacioni ognuno a ogni azione corrisponde una reazione io difendo e difenderò l'inconunità di chiunque mi piacebbe che altrettanto sdegno e altrettante domande fossero fatte nei confronti di chi quotidianamente riempie i muri italiani di scritte come Salvini muori Salvini appeso Salvini in piazza all'orreto sparate a Salvini centrate Salvini ammazzate Salvini io non faccio il piangina faccio un lavoro che mi piace queste scritte mi fanno solo pietà e tenerezza però ripeto se è liberissimo ciascuno di contestare e di criticare non di offendere e di insultare sia uomo donna giovane anziano bello brutto simpatico antipatico il diritto di famiglia va riformato nell'interesse delle donne e degli uomini e soprattutto dei minori lo dico da genitore separato anzi divorziato il diritto di famiglia così come oggi non funziona ci sono troppi uomini furbi che non danno gli alimenti nascondendo i loro reali possedimenti ci sono troppe donne che utilizzano i minori con scopo ricatatorio per ottenere quello che non sempre giusto che ottengano quindi va riequilibrato non a favore della donna o dell'uomo ma nell'interesse esclusivo del minore che troppo spesso è usato come merce di scambio con false denunce intasando i tribunali e quindi il DDL Pillon è un punto di partenza non è un punto di arrivo si può emendare si può migliorare per carità di dio però la parità di diritti delle ex mogli e degli ex mariti e soprattutto dei figli che non sono ex figli ma rimarranno figli a vita e dei nonni aggiungo io che a volte perdono i nipoti e su questo evidentemente bisogna lavorare perché troppo spesso i bimbi sono usati per le beghe degli adulti e questo mi fa imbestialire se siamo a posto vi ringrazio e auguro un buon 8 marzo a tutte e a tutti grazie c'è da fare perché anche lo stesso dito abbreviato avvenire al bar